Non sono stati furi abbastanza da abbracciare l'innovazione, ok? Quindi, si fa la ricerca di mercato, ve l'ho fatto vedere due settimane fa, andatevele a rivedere. Perché? Perché non possiamo vendere qualcosa che la gente non vuole, ma questo è normale. E non è complicato, è molto più semplice anche questo di quello che pensate. Ok? How to get best keyword? C'è la lezione, ragazzi. Ok? Quindi ci siamo, questo è il discorso. Aspetti importanti, e questo l'ho visto nel corso di tutte le ore di lezione di coaching svolte nel corso degli anni. Faccio publishing, quindi pubblico libri su Amazon dal 2018, ok? Da settembre a ottobre che barca, 2018 che barca meno in questo ambiente. E dal 2019 che insegno alle persone, ok? A centinaia e centinaia di aspiranti publisher. C'è un elemento fondamentale, non è la ricerca keyword, non è il libro che non è di qualità, non è il problema di come fare la copertina, non è come batto il concorrente con le Amazon Ads, non è come il trucco segreto delle Amazon Ads. Non è niente di tutto ciò, ok? E lo vedo continuamente. Anche tutt'oggi, non è cambiato niente rispetto al 2019. Tutti coloro che non ottengono dei risultati, è per un motivo e uno soltanto. E io lo dico continuamente anche ai miei studenti. Se non fate questo, rimarrete bloccati. Che cos'è? Non pubblicano i libri. Molto semplice. Ok? Perché le persone si fanno pippe e trip mentali infiniti, infiniti. Su, allora io perché devo fare questo? Si vanno a vedere i video motivazionali, si leggono 56.000 libri. Allora dovete fare business del publishing, ok? Siete in WePublishing, a parte che con WePublishing abbiamo completamente acchierato questo problema. Perché ve lo spiego? Perché se sei lì, ti stai facendo 57.000 segmentali, ho la copertina, non va bene. L'iperperfezionismo porta alla paralisi da analisi. Molto semplicemente. Perché? Se stai aspettando di fare il titolo perfetto, sottotitolo perfetto, la descrizione impeccabile. La migliore descrizione al mondo. Il libro che sembra quasi un capolavoro. Ragazzi, il libro non deve essere un capolavoro. Punto. Perché questo non è opinabile. Nessuno può opinare su questo. Non con me. Il libro non deve essere necessariamente un capolavoro. Deve essere un buon libro. Se no, altrimenti, entrate in questo circolo vizioso di eccessiva analisi che vi porta alla paralisi e non vi porta a pubblicare. E quindi ritorniamo al punto precedente. Non ottenete risultati perché non pubblicate i libri. E io sono sei mesi che sto lavorando il mio libro. Cazzo, sei mesi? Ma che stai facendo? La Bibbia? Il Terzo Testamento? Ok? Sei un publisher. Rilassati. Stai tranquillo. Non stai pubblicando il capolavoro del secolo. Non andrai a finire alla Mondadori. Mi duole deluderti. Anche se ci speri. Non finisci alla Mondadori con un libro da Sir Publisher. Ok? Nella stragrande maggioranza dei casi. 99,999 periodico. Chiaro? Pacifico questo? Lo avete capito? È così. Però, non è che quindi se non è questo, non è quello. Guadagnerete moltissimo da pubblicare i vostri libri su Amazon. È un business incredibile. Non dovete fare magazzino. Non dovete anticipare soldi per la merce. È un fottutissimo file PDF Word. Ma avete capito di cosa stiamo parlando? È un file che sta sul computer. Che se ha problemi, il vostro prodotto, file, libro, lo sistemate e ce l'avete. E l'avete rimpiazzato all'istante. Provate a ordinare 10.000 sbiancatori per i denti e danno un problema tecnico. So, cazzi. Pagate il magazzino. Pagate le spedizioni. Non è banale. Per chi ha provato a fare Amazon FBA o i vari private labor. Non è banale. O per chi ha provato a fare dropshipping. Ah, il prodotto non è il mio. È una merdata cinese. Ok? E devi saper fare le Facebook ads. Sì che sono complicate le Facebook ads. A seconda di quello che vendi. Non è banale. Ok? Chiaro? Quindi. Non state lì a fare i mille perfezionismi. Li vedo. Studenti che vengono in Zoom. Stasera abbiamo la solita Zoom settimanale con tutti gli studenti privati. Vengono in Zoom. Ah, ma io qua. Qualcuno, no? Tutti. Ah, ma io qua. Eh, ma sai, no. Mille segmentali, mille domande. Stai pubblicando? Negli ultimi sei mesi quanti li hai pubblicato? Eh, due. Tre. Che cazzo vuoi fare? I soldi con tre libri? Sei mesi? Ma veramente facciamo? Ok? Il segreto è molto semplice. Dovete fare azione. Dovete lavorare. Quando qualcuno mi si presenta in consulenza e mi dice hai pubblicato il libro, gli chiedo, hai fatto qui, hai fatto lì, eh no, ma c'è le vacanze, sai, sono sei mesi e non faccio vacanza e mi spettano le vacanze, perché se non faccio le vacanze, sai, me le merito. Non te le meriti, perché avevi una cosa da fare, eh, pubblicare almeno un libro al mese, ragazzi. Un libro al mese, un libro in 30 giorni. Ma un imprenditore tiene aperto il ristorante per un giorno al mese. Ma ragazzi, ma avete capito di cosa cazzo stiamo parlando? Ma come pensate a ottenere risultati pubblicando uno, due libri in sei mesi? Eh, non c'ho soldi. Ragazzi, è un business. È un'attività imperditoriale, non è moltiplicazione dei panni e dei pesci. Non c'è Gesù con il pesce in mano e lo sta moltiplicando. Ragazzi, è un business, è un'attività. Mettetemi in pace. Volete fare 10.000 euro al mese? Non puoi mettere zero assoluto, è impossibile. Come fai con zero assoluto o generale 10.000? Se ci riesci, scrivimi in privato. Ok? Contatta i miei consulenti, vi metto il link. Io ho trovato il modo per moltiplicare i panni e i pesci. Ok? Vi metto il link, così potete fornire la vostra soluzione miracolosa. Ok? Io moltiplico i panni e i pesci.